Un passo avanti è stato fatto con la notizia resa nota dai sindacati che la regione pagherà la mensilità di ottobre al posto della società. Tuttavia la situazione di difficoltà legata al servizio di trasporto pubblico regionale continua a preoccupare le famiglie dei dipendenti dell'azienda. A lanciare il grido d'allarme, oltre alle sigle sindacali e agli stessi lavoratori che in questi giorni hanno anche avviato una campagna di sensibilizzazione attraverso alcuni manifesti affissi a Campobasso e Isernia, è la moglie di uno dei dipendenti della società di trasporti. Non ce la facciamo più, non sappiamo come andare avanti, qualcuno ci aiuti. È l'appello che rivolge attraverso le telecamere di TVI Molise. Tra le varie problematiche quella che destra maggiore preoccupazione tra i nuclei familiari è comunque data dagli stipendi arretrati. Se ci sono autisti che attendono il pagamento di poche mensilità ce ne sono altri che hanno accumulato arretrati per oltre un anno. Noi siamo veramente stanchi, ci sono autisti che avanzano anche 17 mensilità non tutte in un anno ma a scaglioni. Ci sono autisti come mio marito che avanzano ottobre, novembre e tredicesima. La regione che oggi come oggi ci ha detto che ha fatto dei mandati per il mese di ottobre perché è stato impugnato e questi sono scritti e li possiamo vedere sulla cosa della regione ma il mandato che ci faccio? Porto il mandato a fare la spesa o a pagare le bollette? Io sono una di quelle donne che sono stanca perché vado da mia madre e da mio padre che ha 84 anni a chiedergli la 100 euro per mangiare e da mio figlio che si è appena sposato di 27 anni per favore mi paghi una bolletta della luce perché se no me la staccano mi... cioè non ce la faccio più. Chiedere le remosina per avere un pezzo di pane, chiedere andare alla Caritas a chiedere la spesa per mangiare ma dove siamo arrivati? Noi vogliamo i nostri diritti, non è che chiediamo chissà che cosa, il diritto di vivere. Una situazione di difficoltà che se in questo periodo dell'anno si avverte con maggiore forza riguarda però la quotidianità. Qui ormai sono dieci anni, non è questo Natale che ci preoccupa, ci hanno sempre preoccupati da dieci anni che sia Ferragosto Pasqua Natale per la società ATM e per la regione Molise i dipendenti, gli autisti che portano le persone sono, non so come definirli. Il Natale, ma non me lo ricordo più, da dieci anni. Dieci anni un Natale contento non esiste. persone che dicono che purtroppo è la vita, ma quale vita? Un uomo che si alza le 5 della mattina per andare a fare il suo turno, per lavorare, portare gente, deve stare tranquillo, deve lavorare con serenità. Qui siamo stanchi, non ce la facciamo più. La signora Angela lancia un appello a chi di competenza e ai vertici regionali. Quando un presidente della regione si assume la responsabilità di proteggere questa regione, di aiutare questa regione, deve anche mettere, come dire, cuore. È inutile che io venga in trasmissione a lamentarmi e poi ci danno l'accontentino e poi se lo scordano di nuovo e dobbiamo fare decreti ingiuntivi che poi vanno a pignoramento. Non ce la facciamo più. Non è che chiedo, mettetevi il cuore, mettete una coscienza. Grazie.